Un'altra importantissima funzione di animazione di Adobe After Effects con il testo è quello di animare il testo lungo un tracciato. Come si fa? Beh, innanzitutto diciamo che andiamo a lavorare con quest'ultima opzione che non abbiamo ancora visto, che è la Path Options. Quindi andiamo a dirgli di seguire un determinato tracciato. Prima di tutto disegniamo un tracciato. Ora, per disegnarlo utilizziamo lo strumento penna. Come per fare una maschera, selezioniamo il nostro livello di testo e creiamo il nostro tracciato. Non è necessario per forza chiudere il nostro tracciato, ma possiamo disegnare il tracciato che più ci interessa. Una volta terminato, vedremo che il nostro tracciato, che comunque continua a rimanere modificabile, è stato applicato al nostro livello sotto forma di maschera, perché effettivamente essenzialmente è una maschera. Ora, andiamo nel pannello Path Options e qui abbiamo una sola voce dove possiamo andare a selezionare il livello di maschera, quindi il nostro tracciato, da far seguire al nostro testo. Ora, seleziono maschera 1 e come è possibile vedere, il nostro testo si è adagiato sul nostro percorso. Ora abbiamo una serie di parametri. Possiamo andare a dirgli di invertire il tracciato, quindi dirgli che il tracciato è al contrario, quindi il testo si metterà dall'altro lato. Possiamo dire al nostro testo di essere perpendicolare al tracciato oppure no. Perpendicolare significa che ogni singola lettera sia perpendicolare al nostro tracciato, oppure semplicemente che si adagi sul nostro tracciato ogni lettera. Possiamo forzare l'allineamento, quindi forzare la disposizione dal primo punto del nostro tracciato all'ultimo. Naturalmente tutto quello che noi facciamo è tutto modificabile, quindi nel momento in cui andiamo a modificare il nostro tracciato il testo si adatterà. Possiamo decidere qual è il margine iniziale, quindi da dove far partire e dove terminare, quindi il margine iniziale e il margine finale. E grazie a queste due opzioni noi possiamo andare anche ad animare il nostro testo lungo il nostro tracciato. Per concludere questa veloce lezione, naturalmente vi ricordo che tutti i parametri sono tutti quanti animabili, quindi noi possiamo tranquillamente forzare l'allineamento e da un momento ad un altro il testo verrà forzato. Così come possiamo animare tutti i parametri relativi ai margini, quindi per far spostare il nostro testo sia da un lato che dall'altro.